Sempre per la serie che cosa conta nel trading, vediamo oggi che cosa abbiamo. Abbiamo un libro di Ross, TNT One, abbiamo sempre Ross, TNT 3, abbiamo un libricino su analisi finanziaria, gestione del portafoglio, abbiamo le bande di Bollinger, abbiamo un altro arribo interessante di William Blue, prezzi, momentum e divergenze, abbiamo Thomas DeMarc, la nuova scienza dell'analisi tecnica, abbiamo Sniper Trading, ok, di George Angeli. E poi abbiamo questo, non so perché ho questo vizio di togliere le copertine, quelle morbide, abbiamo questo, di Douglas, ok? Qual è più importante? No, perché qua non c'è un grafico, mi insegna il trading questo. Ok, quello che voglio dirti oggi è che se tu ti approcci al trading senza averlo aggiunto, il giusto stato mentale, cioè non farei in modo che le paure e la tua memoria passata, dei tuoi fallimenti passati, anche in altri campi, entrino in gioco quando fai trading. Se tu non trovi la tua zona, dice Douglas, che non è altro che quella sorta di stato di grazia dove in qualche maniera sei perfettamente convinto, sia razionalmente ma anche inconsciamente, che stai andando verso una direzione, hai un piano per farlo e qualsiasi cosa succeda, le cose sono già fatte, sono là, stai andando verso quella dannata direzione. Se tu non raggiungi questo, se tu non raggiungi questo stato, ok? Se tu non trovi dentro di te, dentro la tua testa, le performance, l'atteggiamento giusto, se tu non stronchi i limiti che hai nella tua testa, è molto difficile che un qualsiasi elemento tecnico possa toglierti lui queste paure, come se all'aumentare delle competenze tu sostanzialmente diventassi un... cioè il mercato per te diventasse un libro aperto. Ogni decisione di trading si riparte da zero, ogni decisione di trading è un'immagine che noi fermiamo sul mercato e rivestiamo in questa una probabilità di successo positiva. Tutto questo ha a che fare con la disciplina, ma se vogliamo la disciplina è un qualcosa che viene di conseguenza nel momento in cui si è trovato davvero il vero stato mentale per, diciamo, raggiungere l'obiettivo. E quindi di tutti questi libri che sono molto belli, io in realtà voglio consigliarti questo Trading in the Zone. È un libro che non si legge una volta sola perché probabilmente non ci si capisce nulla. È straordinario che ci sia anche la traduzione in italiano di questo libro. In realtà la traduzione è in 37 lingue, anche in italiano. Ed è un libro davvero importante da leggere per primo, ancora prima. Se si trova il giusto stato mentale, ok? Poi dopo quel 20%, che in realtà è la tecnica, che è importantissima, ma è un 20%. Se si trada fuori dal proprio stato mentale, si trada con negatività, si trada con paura, è straordinariamente difficile, anzi penso impossibile, che si raggiungano dei risultati consistenti. Ok? Se il video ti è piaciuto condividilo, commentalo, iscriviti al canale YouTube e alla nostra community, ti lascio il link in descrizione. Un caro saluto da tutto il team di Professione Forex. A presto!